Ciao a Casa Betania, spero stiate tutti bene. Mi avete chiamato ed eccomi qui. C'è stato tanto silenzio in questi lunghi mesi, forse è troppo. Nel silenzio la sofferenza non è mica scomparsa, si è ingigantita addirittura. Voi mi avete chiesto cosa ne è stato dei migranti in viaggio verso il nostro paese in questo periodo. Io la sofferenza l'ho potuta vedere, sapete? L'ho potuta vedere un giorno sul molo Favaloro, qui a Lampedusa. Voi sapete che i migranti non hanno mai smesso di arrivare con barche, barchette, barchini, a piccoli gruppi, ma anche a decine. E quel giorno ho visto sul molo una famiglia, padre, madre, due figli, di cui una bambina disabile. Erano lì, in un angolo, appena sbarcati insieme ad altri, stavano muti, si guardavano smarriti. E nessuno che li avvicinasse, l'indifferenza. Mi ha colpito, mi ha colpito molto questa immagine. Ho pensato cosa deve aver passato quella famiglia, proveniente non so da dove, in cerca di un futuro migliore, di un destino migliore, specie per quella figlia disabile. Una doppia, triplice sventura. I migranti non hanno mai smesso di arrivare. Forse persino i gnari che noi fossimo in preda al contagio del coronavirus. Sono sempre stati messi in quarantena. E così accade anche oggi, in questi giorni. E attenzione, non si è trovato nemmeno uno che avesse il coronavirus. Chi gridava al pericolo era un imbroglione. Purtroppo per tutti noi il virus è arrivato da tutta altra parte, lo sappiamo. Ho pensato in queste settimane alla frase più ripetuta. Ne usciremo migliori. Io non sono sicuro di questo. Io ho sentito Papa Francesco dire si può uscire migliori, ma si può anche uscire peggiori. Questa è la verità. Perché il virus è certamente democratico. Colpisce tutti indistintamente. Però ha accentuato le disuguaglianze. Chi stava peggio prima della crisi adesso sta male ancora molto di più. Non eravamo uguali prima. Siamo meno uguali a oggi. Chi aveva di più ha potuto superare la fase difficile. Chi aveva di meno oggi sta in condizioni non accettabili. Guardate poi cosa è avvenuto nell'America del Sud, in Amazzonia, dove pare ci sia stata una vera e propria strage tra la popolazione più abbandonata della Terra. E guardiamo tutti con sgomento a quanto è successo negli Stati Uniti d'America, dove la piaga del razzismo e dell'odio contro i neri ha mostrato di nuovo il suo volto ributtante. Tira purtroppo una brutta aria nel mondo e proprio nei paesi più sviluppati. Questo è un problema molto serio per lo sviluppo, per la democrazia, per i diritti. Quel che può contrastare tutto questo è la capacità di stare insieme, di costruire il bene, di fare squadra tra le persone di buona volontà. Il nostro slogan non cambia. Rimane sempre vivo. Restiamo umani. Ciao, ciao a tutti.